Anna Oxa è tornata con il brano Sali, canto dell'anima, una delle artiste più attese di San Ramo 2023. È arrivata sul palco dell'Ariston per la quindicesima volta nella sua carriera, non deludendo le aspettative. Vestito total black, si avvicina al microfono con un sorriso, una carezza, amorandi e poi intona i primi versi della canzone inedita. La voce è quella di sempre, intensa, calda, dalle note più basse a quelle più alte. Oxa ha regalato uno dei momenti più emozionanti della prima serata. Arca dell'umanità andata a fondo, cuori puri, mangiati dall'avidità a Sali e poi un'altra vita tu vivrai. Il testo di Oxa parla di una rinascita per l'intera umanità. Nell'ultima apparizione della cantante sul palco con processo a me stessa, il clima è decisamente cambiato. Niente più toni scuri, luce intensa, note aperte. A poche ore dalla prima serata dell'esibizione era stata messa in dubbio dell'influenza che aveva colpito la cantante. Per questo Oxa aveva scelto di non partecipare al red carpet dell'Ariston alla vigilia della Kermess. Stasera però l'artista è apparsa più in forma che mai. Grazie a tutti.